La mia fascinazione per l'universo è iniziata di fronte a un libro. Un libro semplice di quelli per ragazzi, pieno di foto meravigliose e informazioni dettagliatissime su pianeti, stelle, galassie, nebulose, tutto quello che affolla il nostro cielo. Tra queste informazioni facevano la loro bella figura numeri così grandi o così piccoli che avevano bisogno di tantissimi zeri per essere scritti. Ricordo di aver provato una sensazione di vertigine nel cercare di immaginare le cifre che mi venivano snocciolate di fronte agli occhi zero dopo zero. Qualche anno più tardi gli zeri furono sostituiti dagli esponenti che permettevano di rendere maneggevoli numeri che non sarebbero neanche entrati nella pagina del libro. Poi fu il momento della mia prima esperienza con un telescopio. Per la prima volta, di fronte ai miei occhi, in fondo all'oculare, c'erano quegli oggetti che avevano spinto al massimo la mia immaginazione da bambino. Mi sentivo immenso e minuscolo, effimero ed eterno contemporaneamente. La scala dell'universo si estendeva di fronte a me verso mondi e tempi incomprensibilmente grandi e sprofondava sotto i miei piedi verso spazi e istanti infinitesimi. Provai di nuovo quella vaga sensazione di vertigine, di muto stupore di fronte al cosmo. Vorrei provare stasera con voi ad avventurarmi su questa scala. Tuttavia è facile perdere l'orientamento in questa tempesta di zeri. Ci serve quindi un riferimento. Partiamo quindi da un essere umano. Si dice che per i fisici le mucche siano sferiche, perché questo semplifica tantissimi conti. Ecco, un essere umano è grande circa un metro e non è sferico. Sarà questo il nostro riferimento. Aggiungendo uno zero alla dimensione di un essere umano, dieci metri, otteniamo un edificio. Mentre un altro zero ci porta alle dimensioni di un quartiere e uno zero ancora alle dimensioni di una città. Siamo saliti sul terzo gradino della nostra scala delle distanze e le cose sono già mille volte più grandi. Un chilometro nell'universo è la dimensione di un asteroide in grado di fare parecchi danni. Il quarto gradino ci porta quindi alle decine di chilometri. Gli asteroidi e le comete di queste dimensioni sono ancora più dolorose. Provate a chiederle ai dinosauri cosa ne pensano. E sono queste le dimensioni della gran parte delle lune dei giganti gassosi. Sono probabilmente tutti asteroidi catturati. I due gradini successivi della scala, il quinto e il sesto, ci portano proprio tra le lune principali dei pianeti del Sistema Solare. Dal piccolo mimante, Mimas, 400 chilometri, il più piccolo oggetto sferico del Sistema Solare, al gigantesco Ganymede, oltre 5200 chilometri di diametro, più grande persino del pianeta Mercurio. Siamo sul sesto gradino e le cose sono già grandi come pianeti. I pianeti veri e propri si occupano del settimo e dell'ottavo gradino. La Terra ha una dimensione di circa 12.000 chilometri, Giove di 140.000 chilometri. Finalmente, sul nono gradino, le cose sono grandi come stelle, miliardi di volte più di un essere umano, milioni di chilometri. Le stelle, poi, nel corso della loro esistenza, cambiano, evolvono. Alcune di loro cambiano di colore, temperatura e dimensioni. A volte possono raggiungere diametri di miliardi di chilometri. Siamo sul dodicesimo gradino. In pratica, tra la stella più grande e la stella più piccola, ci sono tre o quattro gradini. La stessa differenza che c'è tra le dimensioni di un essere umano è una città. Un passo ulteriore ci porta al tredicesimo gradino. Qui troviamo gli oggetti singoli più grandi dell'universo, i buchi neri supermassicci. Se prendessi il buco nero al centro della galassia M87 e lo mettessi al posto del Sole, occuperebbe l'intero volume del sistema solare planetario. Più in alto, sulla scala, non troviamo più oggetti singoli, coerenti, ma gruppi di cose. Le distanze tra le stelle sono talmente grandi che per valicarle dobbiamo saltare direttamente tre gradini e salire sul sedicesimo. Qui, finalmente, incontriamo l'anno luce, la distanza percorsa dalla luce in un anno. Gli astronomi la utilizzano per rendere più maneggevoli gli abissi dello spazio-tempo. Mediamente, le stelle distano tra di loro qualche anno luce, vanno a formare degli ammassi grandi decine o centinaia di anni luce. I più grandi raggruppamenti di stelle possibili sono le galassie. La nostra ha un diametro di centomila anni luce, cinque gradini in più, siamo sul ventunesimo. miliardi di miliardi di chilometri. Una galassia rispetto a una stella è molto più grande di una stella rispetto a un essere umano. Poi a loro volta anche le galassie possono formare dei gruppi che possiamo organizzare in ammassi e questi ammassi li possiamo organizzare in super ammassi, centinaia di milioni di anni luce, altri tre gradini, siamo arrivati al ventiquattresimo. E poi basta, perché c'è solo l'universo di più grande. L'intera dimensione dell'universo a noi osservabile è di 93 miliardi di anni luce, un numero che è scritto in metri avrebbe bisogno di quasi 27 zeri. Miliardi di miliardi di miliardi. Quindi, oltre la scala si perde nella nebbia. Non sappiamo che cosa ci sia oltre l'universo osservabile, potrebbe anche andare avanti all'infinito. Visto che non possiamo proseguire oltre, torniamo indietro e andiamo a vedere cosa c'è sotto i nostri piedi. Il primo passo, il primo gradino, ci porta alle dimensioni dei decimetri, quelle di un gatto. Mentre il secondo gradino ci porta ai centimetri, la dimensione di una farfalla, e il terzo è quello dei millimetri, i granelli di sabbia. I successivi tre gradini sono lo sterminato dominio delle cellule. Alcune grandi centinaia di micrometri, come l'ovulo umano, altre grandi pochi micrometri, come il globulo rosso o i batteri. Sotto nelle frazioni di micrometro, al settimo e ottavo gradino, troviamo i virus. Alcuni così piccoli, da essere grandi, appena 20 nanometri. Vi ricordate cosa c'era? Otto gradini sopra di noi. il pianeta Giove. Vuol dire che un essere umano, per un virus, è grande come un pianeta. Sul nono gradino, troviamo il mastro burattinaio della vita. La molecola di DNA ha una dimensione di 2 nanometri e una lunghezza che dipende da quante informazioni contiene. Il DNA umano è lungo circa 2 metri e ciascuno di voi custodisce 37 mila miliardi di copie di questa molecola. Oltre, abbandoniamo il territorio della chimica ed entriamo nel reame della quantistica. Perché sul decimo e l'undicesimo gradino abbiamo gli atomi. Il più piccolo di loro è l'atomo di Elio, a un diametro di circa 56 picometri, millimiliardesimi di metro. Anche se in questo reame definire il concetto di dimensioni è molto difficile. Poi c'è un salto di 5 gradini. Tra il decimo e il quindicesimo non c'è quasi niente, un po' come era capitato con l'anno luce. Quindi scendiamo e andiamo a incontrare il nucleo dell'atomo e i suoi costituenti, il protone e il neutrone. Questo salto significa che il nucleo è centomila volte più piccolo dell'atomo stesso. È una differenza confrontabile a quella che c'era tra le stelle e gli spazi tra le stelle. Salta fuori che la materia e l'universo sono fatti praticamente di spazi vuoto. Scendere ancora ci porta nuovamente a scontrarci con i confini della nostra conoscenza del cosmo. Sul diciottesimo gradino, i miliardesimi di miliardesimi di metro, incontriamo la più piccola particella per la quale abbia ancora senso parlare di dimensioni, il quark, il costituente fondamentale di protoni e neutroni. Poi, per quanto ne sappiamo, non c'è più nulla e la scala sprofonda fino a raggiungere il trentacinquesimo gradino, la più piccola distanza di spazio che abbia senso nel nostro universo, la lunghezza di Planck. La scala è terminata, non ci sono altri gradini. Il tempo, invece, è tutta un'altra questione. Se la scala delle distanze ha una sessantina di gradini, quella del tempo è semplicemente indeterminata. Il tempo ha iniziato a scorrere circa 13,8 miliardi di anni fa e continuerà a farlo per sempre. L'età dell'universo è una quantità di tempo talmente inconcepibile che facciamo fatica a starci dietro, ma esiste un trucco. Si chiama calendario cosmico. È stato inventato circa 50 anni fa dal più grande comunicatore della scienza moderno, Carl Sagan. L'idea di Sagan era molto semplice. Prendiamo l'intera storia dell'universo e comprimiamola in un singolo anno di calendario. L'inizio, il Big Bang, è avvenuto alla mezzanotte del primo gennaio. Oggi, ora, in questo momento, ci troviamo alla mezzanotte del 31 dicembre, pronti a stappare lo spumante. Ecco, in questa scala temporale, un secondo corrisponde a oltre 430 anni e un giorno sono 37 milioni di anni. Nel corso del mese di gennaio si sono formate quasi tutte le galassie. La nostra è nata da qualche parte a febbraio, circa un miliardo di anni dopo il Big Bang. E per i restanti mesi cosmici l'universo è stato impegnato a formare stelle a rotta di collo, una dietro l'altra, le quali, morendo, hanno disseminato nello spazio gli elementi chimici pesanti prodotti dalla fusione nucleare. Elementi da cui si possono fare un sacco di cose interessanti. E infatti, ecco che a fine agosto, otto mesi dall'inizio del tempo, nasce il sistema solarisario. Il mese di settembre è stato molto intenso. Il 2 settembre si accende il sole. Il 3 settembre un grande impatto crea la nostra luna. Il 6 settembre la formazione dei pianeti è completa. Il 14 settembre succede qualcosa di molto particolare perché sulla vita, sulla Terra, compaiono le prime forme di vita di cui abbiamo notizia. Forme di vita anaerobiche, perché per avere grandi quantità di ossigeno nell'atmosfera del nostro pianeta dobbiamo attendere il 29 ottobre. In quel momento si estinse il 99% delle forme di vita della Terra. Una catastrofe. I primi eucarioti compaiono agli inizi di novembre e le prime forme di vita pluricellulari a inizio dicembre. Da qui le cose accelerano vertiginosamente. Il 17 dicembre nel mare ci sono i pesci. Il 22 dicembre gli anfibi. Il 25 dicembre a Natale i dinosauri conquistano il pianeta. E alle 6 di mattina del 30 dicembre si estinguono. L'intera evoluzione umana è concentrata nell'ultimo giorno. Il 31 dicembre gli ominidi sono comparsi alle 10 di sera. La nostra specie 8 minuti prima della mezzanotte. L'agricoltura 30 secondi prima della mezzanotte. La scienza un secondo fa. Lo sbarco sulla Luna un decimo di secondo fa. Il calendario cosmico può anche essere esteso nel futuro. Nel corso del prossimo secondo ci giocheremo la partita con il cambiamento climatico i cui effetti si sentiranno per i prossimi uno o due minuti. La biodiversità invece avrà bisogno di molto più tempo per riprendersi 6 ore cosmiche circa 10 milioni di anni. 10 milioni di anni nel futuro non è troppo remoto ma il cielo sarà già completamente irriconoscibile a causa del moto proprio delle stelle e della morte delle giganti più luminose. Il 2 gennaio è previsto un appuntamento molto particolare perché la luna di Marte Phobos verrà fatta a pezzi della gravità del suo pianeta dotando Marte di un bellissimo anello luminoso. Il 7 gennaio di questo nuovo anno cosmico avremo compiuto un giro intero intorno al centro della galassia e la Terra avrà ultimato la costruzione del nuovo supercontinente. il 16 gennaio ci sarà l'ultima eclissi totale di Luna a causa del progressivo allontanamento del nostro satellite. Nel frattempo però il sole sta invecchiando. Il primo febbraio sulla Terra si estingueranno tutte le forme di vita vegetali complesse perché ormai fa troppo caldo. Le forme di vita unicellulari potrebbero durare un po' di più fino al 15 marzo 2,8 miliardi di anni nel futuro non di più. Nel corso del mese di aprile si svolgerà la fusione tra la galassia nostra e la galassia di Andromeda e a luglio il sole diventerà una gigante rossa morendo infine il 30 del mese. Il futuro remoto è inconcepibilmente lontano fra 120 miliardi di anni circa 9 anni cosmici l'espansione accelerata del cosmo avrà allontanato le altre galassie al punto che non ne potremo più vedere ci saranno solo le stelle della Via Lattea e fra 800 miliardi di anni circa 60 anni cosmici anche le stelle più longeve della Via Lattea cominceranno gradualmente a spegnersi. Il futuro remoto è qualcosa che diventa rapidamente inconcepibile. Abbiamo alcune ipotesi dobbiamo abbandonare il calendario cosmico e tornare alla scala delle potenze perché fra mille miliardi di anni 12 gradini nella nostra analogia terminerà il gas per la formazione stellare non si potranno formare più stelle l'universo l'avrà usato tutto all'altezza del 13esimo e del 14esimo gradino anche le stelle più longeve di tutte moriranno e l'universo rimarrà popolato solo da oggetti degeneri nanebrune buchi neri non ci sarà più luce sul 15esimo gradino avviene il smantellamento dinamico dei sistemi planetari e sul 20esimo la disgregazione delle galassie l'universo sarà popolato solamente da oggetti solitari bui circondati da uno spazio solipsistico vuoto e completamente buio ma il tempo continua a scorrere e il tempo tutto divora se le nostre ipotesi sono corrette all'altezza del 34esimo o 43esimo gradino tutta la materia dell'universo sarà decaduta in energia all'altezza del 67esimo gradino i buchi neri di massa solare evaporeranno cosa che succederà ai buchi neri super massicci al 92esimo gradino oltre ancora diventa veramente difficile orientarsi alcune nostre ipotesi prevedono eventi in un futuro così remoto che per poter essere trascritto avrebbe bisogno di un numero di cifre tale da poter essere rappresentato solo con una torre di potenze un numero che non ci starebbe nemmeno nell'intero universo figuratevi nella pagina di un libro nell'altra direzione della scala temporale invece possiamo scendere rendendo gli istanti temporali sempre più piccoli fino a renderli così piccoli che nuovamente perdono di significato si parla di intervalli temporali inferiori a un decimilionesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di secondo sono 43 zeri dopo la virgola è il cosiddetto tempo di Planck tempi più piccoli di questo non hanno significato giro un po' la testa a me sì è questa la sensazione che provai tanti anni fa e non credo che sarò mai in grado di abituarmi nessuno può farlo ma è da questa sensazione che nasce la scienza è da questo bisogno di dipanare la matassa dell'ignoto che giunge lo scoperta la cosa incredibile è che tutto questo nella nostra testa ci sta in qualche modo lo riusciamo a concepire a maneggiare quasi con disinvoltura siamo minuscoli rispetto alle scale spaziali e temporali dell'universo eppure siamo immensi qua dentro non dimenticate mai il potere della vostra immaginazione perché è lei la forza creatrice dietro all'umanità a volte per scatenarla basta pochissimo come un libro pieno di immagini di pianeti nelle mani di un ragazzino curioso grazie grazie a tutti grazie a tutti